Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il mondo del cinema visto da Visionaire. Andiamo subito a scoprire quali sono i nuovi titoli che escono in sala questa settimana. E cominciamo subito con il thriller La ragazza del treno tratto dal bestseller di Paula Hawkins che vede nel cast Emily Blunt, Ellie Bennett, Justin Teru, Rebecca Ferguson, Luke Evans ed Edgar Ramirez. Nel caso non abbiate letto il libro vi anticipo solo che si tratta di una donna che non ha superato il suo divorzio e il fatto che il suo ex si sia subito risposato. Non solo, ha cominciato a bere arrivando anche a perdere il lavoro. Ogni mattina però prende il treno dei pendolari come se ancora dovesse recarsi in ufficio guardando fuori dal finestrino e fantasticando sulle cose e le persone che osserva. La sua attenzione si fissa su una coppia che nella sua immaginazione ritiene perfetta. Una mattina però la protagonista vede la lei della coppia con un altro uomo e dopo pochi giorni la ragazza sembra essere sparita. Le sue indagini sulla sparizione della sconosciuta la porteranno però a scoprire una verità sconcertante. Ed è un thriller anche il messicano Un Mostro dalle Mille Teste presentato al Festival di Venezia nel 2015 nella sezione Orizzonti. Nel tentativo disperato di salvare la vita del marito assicurandogli la cura di cui ha bisogno per sopravvivere una donna avvia una battaglia contro la sua assicurazione, una società corrotta e non curante. Lei e il figlio finiranno in una verchiginosa spirale di violenza. A proposito di Festival cambiamo genere con In Bici Senza Sella premiato al Toronto Independent Film Award. Si tratta di una commedia che racconta le storie di sette protagonisti alla ricerca del tanto anelato posto fisso che affrontano la lotta per il proprio futuro inventando nuove ed estreme forme di sopravvivenza. Il film si divide in sei episodi il cui tema principale è la condizione precaria dei giovani di oggi raccontata da sette registi esordienti. Si parla di lavoro anche in sette minuti di Michele Placido, undici personaggi per riflettere sulla possibilità di opporre o meno resistenza alla richiesta aziendale di rinunciare a sette minuti di pausa tra incertezza del futuro, caos, logica e giustizia. Nel cast Cristiana Capotondi, Violante Placido, Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo, Fiorella Mannoia e Maria Nazionale. Sempre a proposito di lavoro esce La pelle dell'orso tratto dal libro di Matteo Righetto. Ambientato negli anni 50, il film segue la storia di Domenico e di suo padre Pietro che per sbarcare il lunario accetta una pericolosa scommessa con il suo datore di lavoro, uccidere l'orso che minaccia il piccolo paese delle Donomiti dove abitano. Torniamo alla commedia con Non si ruba a casa dei ladri di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Manuela Arcuri, Stefania Rocca e Maurizio Mattioli. Il film racconta la rivincita di un cittadino onesto che si vendica di un politico disonesto. Questo weekend escono anche due film d'animazione, Cubo e la spada magica, storia di Cubo che racconta storie fantastiche alla gente del suo paese in riva al mare, ma quando accidentalmente evoca un antico spirito in cerca di secolare vendetta, è costretto a fuggire e a cercare un modo per salvare la sua famiglia. È invece un film d'animazione per adulti, Sausage Party, vita segreta di una salsiccia. Al centro del racconto c'è una salsiccia in crisi esistenziale, alla testa di un gruppo di prodotti da supermercato in missione per scoprire la verità su ciò che realmente accade quando vengono scelti, quando vengono comprati. Il nostro appuntamento con le novità in uscita questo weekend si chiude qui, ma vi aspetto tutti i giorni sul sito www.visionair.fm e aspetto anche le vostre recensioni sulla pagina Facebook di Visionair. A presto e buon cinema a tutti! A presto e buon cinema a tutti!